E poi giochiamo! Oggi taglio del nastro al campo di Via Merlo, rimesso a posto, rifatto il manto erboso, quindi un bel traguardo per il comune. Assolutamente sì, un bel traguardo per il comune, ma soprattutto per i ragazzi che in questo tempo hanno continuato a giocare in questo campo, che aveva assoluta necessità di manutenzione, un intervento dovuto per loro, perché i ragazzi sono tanti, lo si dice sempre, il calcio è uno sport molto molto popolare, tanti ragazzi che avevano bisogno di utilizzare questo impianto, una società che a gran voce ci ha richiesto un intervento, così come onestamente anche in Consiglio Comunale è stata spesso portata questa sollecitazione avanti dai diversi gruppi consigliari, ma anche da parte della Giunta. Non perdiamo quella che è la progettualità in realtà generale, che è quella di sviluppare una vera e propria cittadella dello sport intorno al centro polisportivo, sviluppando anche i campi di Via Trieste, su cui si sta lavorando, campi e non solo, in modo proprio tale da creare un polo sportivo ben coeso, che permetterà anche alle associazioni di lavorare in grande sinergia. Oggi però i ragazzi avevano bisogno di questo spazio e la Giunta, in modo coeso, ha ritenuto questo investimento indispensabile. E quindi eccoci qui oggi a festeggiare per i ragazzi in occasione proprio delle finali del Trofeo Bausano, in cui vediamo i ragazzi esprimersi e soprattutto tanti ragazzi della nostra Riva Rolese. Di fatti in passato c'era stata polemica quando l'amministrazione aveva ventilato l'idea di smettere questo campo proprio in funzione della cittadella dello sport polisportivo e invece poi avete ascoltato l'appello. Assolutamente sì, anche perché quelle che sono le progettualità, poi anche di piano regolatore, sono delle progettualità a lungo termine, che quindi non vedono una realizzazione a stretto giro, per cui investire in questo campo ha ancora senso e ha senso proprio perché, come vi dicevo prima, numerosi ragazzi hanno ancora bisogno di calcare questa terra, che no, sintetica, però hanno ancora bisogno di giocare qui. E quindi è giusto intervenire qui, è giusto ascoltare l'appello che comunque dalla cittadinanza è arrivato, quindi ha significato che era davvero indispensabile. Grazie a tutti.